Hey, nothing you can say, nothing's gonna drain what you've done to me, now it's time to shine, I'm gonna take what's mine Bene, siamo pronti a partire Sì, sembra che sia finito, vero? Sì, sembra, sembra L'abbiamo catturata, tra poco sapremo la sua vera identità Quello dipende da quanto gioco oggi, io potrei scoprirla, effettivamente Voi non lo vedrete, oggi farò una bella giocata di tre ore, no, troppo, quando mai ci riesco? Ma i cavalli ve li siete scordati a casa? No, certo che no Gunter ti sei fatto massacrare da... da una recluta E cosa? Sì, sì Vi conveniva attaccarlo finché ero ancora piccolo Round 2, amici Basta questa cara, il mio cazzo da dietro giamo No, non dubito di voi, ma dubito Che possiamo ucciderla Aiuto, ma c'è sempre con me Tecnicamente mi devi catturare viva Non so quanto durerà anche perché io Non è che abbia così tanti rifornimenti Ho una bombola sola Noi continuiamo a fare così Spero che loro mi diano... Oh, ma c'è ancora con me Mi diano anche rifornimenti ogni tanto E che cazzo Ah, la missione era proprio distruggere le due gambe Ah, sì, è vero È vero, poi sì Attaccate le ascelle Olè, quello era un attacco fantastico Perché è stato ridotto una merda ancora Ahiaaa Eh, basta un minimo errore che lei ti distrugge Petra 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 Eren, dovrei trasformarti un po' prima E così la squadra di Levi Fu totalmente distrutta Da un solo dettaglio Minchia, Super Saiyan Molto meglio però E ora A noi due Oh, quanto ti meno Figa, ok Slaughter? Cosa sarebbe? Ah, ok Ui, occhio Belle le telecamere però Aiaaa Ah, no, ma potevo colleg... Non potevo Bastarda Ah, ecco Loc Mamma mia Che blocco Vai, vai, vai Vicino Facciamo un attacco Prendila Prendila Non l'ha presa Prendila Aiaaa M'ha picchiato Occio Vieni qui che ti spacco in due Aiaaa Contracolpo Ma è che mi manca poco Vieni qui, dai Non scappare Brutta merda Ora siamo in rage mode Come non è? Non l'ho stordita Ora sì Ah, ma mi sa che è morta proprio No, ma si è ripresa completamente No, questa non vale Ah, scappa E' un match un po' strano Uh Tonella In realtà si riduce più o meno come un Nack Ah, colpisci e evita Solo che lui ha un rage mode E qui ci sono degli alberi Che ti danno un fastidio enorme Beccati questo Dove? Ah, eccola Vai, vai, vai Eh Orca vacca 12.000 è molto di più di quello che faccio prima Colpisci la picca di terra Pigliala Ah, ma lei proprio non la possiamo pigliare Ah, gli ho tolto una gamba E ora gli ho tolto il braccio Due gambe in realtà Non mi importa di essere colpito Oh, adesso magari Beccati questo Sì, l'abbiamo battuta Certo, un casino di inquadrature proprio Ti mangerò Mari Eren è leggermente incazzato E non conviene averlo incazzato soprattutto se si trasforma in titano Ciao Eh, qua non potete capire la cosa che vedete in realtà Lo stile di combattimento è un grosso indizio Che in realtà non... ma niente Anche se conoscete il stile di combattimento che vedete da qua Non lo potreste riconoscere effettivamente Perché non si è mai vista quella scena E' scomparsa completamente la musica Mi casa Mi ero completamente escurtato Adesso assisteremo alla coppiata migliore del mondo Però è finita qui la missione Quindi la prossima volta No dai, 4 minuti è durata Non lo so, adesso devo vedere Perché effettivamente non è durata un cazzo